Io mi chiamo Mario Giuffrida e sono nato nel 1956. Nel periodo delle famose, chiamiamole famose, bombe di Savona, io frequentavo in indirizzo macchinisti l'Istituto Tecnico Nautico Leon Pancaldi, che all'epoca si trovava in Piazza Cavallotti, nello stesso plesso che dividevamo con il liceo classico. Io ai tempi abitavo allo anno, di conseguenza ogni mattina, dal lunedì al sabato, perché a quei tempi la scuola durava sei giorni, venivamo in treno, venivo in treno con tanti altri studenti, pigliando il treno, diciamo allo anno, partiva verso le 7-10 del mattino, che faceva al Benga, fermava tutte le stazioni fino a Savona, poi da Savona sarebbe continuato ed era il treno degli studenti, faceva al Benga, Ceriale, Borghetto, Loano, Pietra, Borgio, Finale, Marina e fino al Pia, faceva due fermate a Varigotti, di fatti all'inizio io credevo che Varigotti fosse un comune, invece una frazione comunque di Finale, no, li spotono, sotto il Bergeggi, sotto la montagna, e vado e poi arrivava a Savona. Savona praticamente circa 8-10, avevamo giusto i 10 minuti e un quarto d'ora, ma noi eravamo i più fortunati, perché sia al Nautico, a tutte le altre scuole, alla generia, a geometri, i licei, erano tutti diciamo vicini, i poveretti erano gli amici degli industriali che avevano un bel pezzo di strada da fare. Questa naturalmente era la stazione in Piazza del Popolo, Vichia Stazione, poi la stazione nuova. Diciamo che in quel periodo noi, forse anche perché comunque non c'era l'informazione che ci può essere adesso di televisioni private, di radio private, dei social sui telefonini, pensavamo che a Savona non succedesse niente, nel senso, sì, ci sono le bombe, ma non credevamo, anche perché solitamente si colpiscono sempre delle città molto più grosse, più di nome rispetto a Savona, ma vivevamo sempre, è ovvio, col terrore anche nel senso, nel camminare, vedere un pacco per terra, un qualsiasi cosa, anzi mi ricordo che in stazione c'era un mio carissimo amico che quel giorno è venuto con la valigetta a 24 ore, che l'ha appoggiata sul marciapiede e si è allontanato per appoggiare il piede su una panchina per allacciarsi il legame e le scarpe, io gli ho detto ridendo, in questo momento un'azione del genere, io ho visto, ma se uno vede la valigetta incomincia a gridare che pensa che possa essere una bomba, anche perché in quei tempi comunque non c'erano i sottopassi nella stazione vecchia, si attraversava i binari, comunque viaggiavi veloce. La nostra fortuna, nell'unico caso dove c'è stato un morto, è stata che noi ai tempi facevamo quel pomeriggio, in particolare facevamo lezioni di officina, l'officina era ubicata al Priamar, nel vialone che porta dall'incrocio dove c'era l'ex ospedale San Paolo, alla piscina. La fortuna è che noi, siccome avevamo il treno di rientro che aveva e partiva, mi sembra, le 17.30, 17.32, eravamo autorizzati a uscire un quarto d'ora prima e il passaggio era proprio quello, perché attraversavi i giardini e passavi a 15-20 metri del palazzo che poi è esploso per andare in via 20 Settembre o la via prima ad andare in stazione. E l'esplosione è successa, qualcuno l'ha sentita, l'ha percepita, perché poi col caos che ci poteva essere sul treno tutti i ragazzi che rientravamo, mentre uscivamo dalla stazione di Savona che ci portava verso casa, c'è stata questa esplosione. Se fossimo invece usciti alle 17.30 facendo quel percorso ci saremmo stati penso a 15-20 metri, perché comunque dai giardini il palazzo era proprio lì. Quello ci è andato bene. Diciamo che ogni volta che comunque c'è un'esplosione in giro con vittime e tutto mi viene in mente questo periodo delle bombe e diciamo siamo stati fortunati. Anche se, anche se questo mio pensiero, comunque queste persone o questa persona o chi fosse non voleva far vittime, perché se avesse voluto far vittime le bombe le posizionava alla stazione ferroviaria, al termine degli autobus, al mercato civico. E non pensiamoci anche soltanto alla fiera di Santa Lucia con tutte quelle persone al pomeriggio. Molto probabilmente la vittima che c'è stata o pensavano che a quell'ora fosse fuori, era in giro, non ci doveva essere. La matrice, io ho sentito parlare di bombe nere. Per l'amore di Dio, gli esperti qualcosa per dire questo e non so come fanno a dirlo, perché nessuno l'ha rimedicata. Non c'è stato un minimo, diciamo, persona indagata. La mia pensiero era, erano persone che stavano iniziando la loro attività criminosa, preparando delle bombe e hanno provato il loro funzionamento, che cosa poteva succedere. Una cosa che è importante, perché c'è stato veramente il periodo proprio della paura, come studenti ci eravamo riuniti per chiedere se lo Stato poteva aiutare le forze dell'ordine che comunque avevano altri problemi, altri compiti, con l'invio di ragazzi dell'esercito, cioè per controllare tutte le strade, per vedere. E c'era stato detto di no. C'era stato detto di no anche perché in quei tempi si era molto a paura dei colpi di Stato. Ora vedo che lo utilizzano, ma non lo dico per rancore, perché noi non l'hanno fatto, loro sì. Con dispiacere, perché se lo stanno usando vuol dire che la delinquenza rispetto a 74 è notevolmente aumentata e le forze dell'ordine non bastano più. Questo è tutto quello che ricordo di quei giorni, di quegli anni, di quelle situazioni. L'unica cosa che proprio abbiamo vissuto con particolare apprensione è stato quando c'è stata la vittima, perché potevamo esserli vicini. Poi vabbè, potevi essere vicino a qualsiasi altra bomba, però quella ci ha toccato perché la fortuna è stata del quarto d'ora che avevamo per uscire prima. Tanta paura, tanta paura anche perché non è che dici è un pazzo e posiziona le bombe vicino soltanto ai monumenti, tu non passi ai monumenti. In teoria poteva essere, mentre arrivavi in stazione, scendevi dal treno e boom, succedeva. Di conseguenza avevamo parecchia paura, ecco, non proprio da non essere i soliti idioti sul treno o comunque per la strada, divertirci e parlare, però guardavamo in giro sempre con attenzione per vedere se ci poteva essere qualche oggetto, qualcosa di strano, di particolare, ecco. Ma i miei erano tranquilli. Torno a ripetere, non è che loro avevano tante informazioni, anche perché il discorso era quello, era quel tempo, o ti leggevi il giornale o eri un po' all'oscuro di tutto. Allora, il mio in casa non è che raccontassi tante cose, anche per farli stare un po' più tranquilli, perché d'altronde a scuola dovevo andare. Almeno loro erano tranquilli senza sapere, di dire sì, devi andare a scuola, però ho sempre il patremo d'anima che potrebbe succedere qualcosa, che poi può succedere qualcosa, un delineamento normale, treno, via di seguito. Però sapere di andare a scuola con un pazzo, o dei pazzi, non so quelli che sono, che collocavano ordini in giro per Savona, non era una cosa molto piacevole, ecco. Da parte di un genitore, soprattutto. Il discorso era, speriamo che non succeda, speriamo che finisca, ecco. Speriamo che le forze dell'ordine riescono a risalire a qualcuno, a qualcosa. Torno a ripetere, quello che è strano è che nessuno le ha mai rivendicate, al di là che possa essere destra o sinistra, i colori non interessano, potevano essere, è il fatto che proprio non sono riusciti a, come dire, probabilmente a partire, a partire per l'indagine, perché è partita l'indagine, non aveva aperto il fascicolo, ma non si è mai fatto un nome, da dire, abbiamo un'ipotesi che potevano essere, non so, mafiosi, o quello che erano, ecco. Quando, soprattutto, vabbè, quando viene fuori sui giornali che si ricorda le bombe di Savona, con qualcuno se ne parla, perché non tanti se le ricordano, specialmente quelli, soprattutto quelli esterni, cioè nel senso che non erano di Savona, quelli di Savona, bene o male, e comunque la loro città l'hanno vissuta, qualcuno, ah perché hanno messo le bombe? Dico sì, c'era un periodo che si andava, mettevano, c'erano delle bombe, ogni tanto una bomba esplodeva, per un periodo molto breve, comunque, fortunatamente, e c'era stata un'unica vittima. Loro hanno sentito il botto, l'hanno sentito veramente bene, ma quando hanno detto, sai, abbiamo sentito il botto, perché comunque loro, la maggior parte, sono scesi verso il vecchio San Paolo, in questa direzione, perché probabilmente abitavano da quelle parti, noi era la strada. Hanno detto che hanno sentito un forte botto, un'esplosione, vi di seguito, ma, diciamo, è morta lì, ecco, come dire, mi viene in mente, no? E dico, però, le bombe, non c'è più stato, come dire, nessun, nessuno che è stato, diciamo, indicato, nessuno perseguito, un'idea, ecco, da, poi muore lì, poi, giustamente, qualche volta sul giornale, leggo, periodo delle bombe, e allora dico, è vero, quel periodo è stato un periodo, torno a ripetere, vivevi, ma un po' di terrore ce l'avevi, ecco, se poi loro scopero quello di vivere il terrore, però, per quello che poi è successo, per quello che ogni tanto leggo, via di seguito, il terrore serve per fare qualcosa, qua a Savona non hanno fatto nulla, torno a ripetere, se non erano lì ad esercitarsi, per poi, purtroppo, fare vittime altrove, come quello che è successo con una bomber, un po' ecco.